Benvenuti a Cazzelfidardo, qui siamo nelle profumerie Galeazzi. Io mi chiamo Marta e lavoro in questo punto vendita e oggi faremo una lezione di trucco un make-up a questa giovane ragazza che si chiama Chiara ed è una nostra cliente. Chiara è una bellissima ragazza, molto semplice, acqua saponica, degli occhi azzurri bellissimi, un taglio un po' rock. Quindi cercheremo di tirar fuori proprio questa anima rock che ha dentro con un bel trucco Smoky Eyes. I prodotti che utilizziamo oggi sono quelli della ditta Diego Dallapalma che è un leader appunto nel make-up e oltre comunque il make-up ha allargato la sua linea con tutti i prodotti curativi per la pelle tra cui la teta detergente. tonico e creme per il viso. Iniziamo con una base, una base da trucco che serve per levigare bene la superficie del viso e aumentare la tenuta del fondotinta. Applichiamo il fondotinta numero 30 del lifting anti-età che è un fondotinta cremoso che non lucida la pelle, dà un effetto un pochino lifting e molto illuminante. Quando applichiamo il fondotinta, appliciamo sempre dal basso verso l'alto, usando questo pennello che è il numero 20 di Diego Dallapalma, facendo dei piccoli tratti come se dipingesse un quadro. Abbiamo scelto per Chiara un colore abbastanza beggiato perché ha una carnagione leggermente rosata, quindi consigliamo di applicare su degli incarnati un tantino rosato e di fondotinta un po' color beige, proprio per spegnere questo piccolo rossore e enfatizzare meglio l'incarnato. Dopodiché applichiamo un illuminante contorno occhi e utilizziamo anche un correttore, lo 00 Stick, che ci servirà per minimizzare le piccole perfezioni del viso. Il illuminante correttore lifting contorno occhi. L'utilizzo del pennello numero 20 è molto importante non solo per estendere il fondotinta, ma anche per fare questi lavori di precisione per applicare meglio il correttore. Prendiamo la cipra in polvere, che è una cipra illuminante, per fissare il nostro trucco utilizzando il pennello numero 28. Prendere un pochino di cipra, di prodotto, scaricarlo e tamponare sul viso. Ora abbiamo fatto la base di questo trucco, quindi abbiamo un incarnato uniforme e andremo a creare delle ombre con una terra, una terra colorata, che è la numero 20, una terra compatta, che la applicheremo ai lati del viso, cercando di creare proprio l'ovale perfetto del nostro viso. Ora iniziamo il trucco degli occhi. Primo passo, matita nera, 01 di ago dalla palma. Prima di applicare l'ombretto, applichiamo la matita nera nella parte bassa dell'occhio, sempre facendo dei piccoli tratti, attaccate proprio alle ciglia. Prendiamo l'ombretto numero 07, che è un nero opaco, e andiamo a tamponare la linea che abbiamo fatto con la matita. Prendiamo sempre l'ombretto numero 7 e andiamo ad applicarlo sopra la matita, nella parte superiore, quindi nella parte bramabile dell'occhio, e la riempiamo proprio, completamente. Con il pennello numero 15 e con il pennello un po' più grande, andiamo a sfumare tutto l'ombretto nero che abbiamo applicato, con delle piccole pressioni circolari. Inseriamo sopra l'ombretto nero un ombretto prugna, proprio a dare questa intensità di sguardo. L'ombretto numero 34. Sempre con l'ombretto 07, prendiamo il pennellino numero 0, che è il pennellino sottile, lo bagniamo un pochino e facciamo l'eyeliner. Andiamo a definire la sopracciglia con la matita 102, applichiamo un ombretto chiaro, proprio sotto la sopracciglia per alzarla. Terminiamo con il mascara Go Go, che è un mascara che dà volume alle ciglia. Applichiamo il farde numero 56, che serve per definire bene il viso, per scolpirlo. Dato che abbiamo puntato il nostro trucco proprio sull'occhio, che quindi ha un trucco molto importante, andremo a mettere un gloss naturale sulle labbra. Matita numero 88, che è una matita naturale. Applichiamo il gloss numero 42. Fissiamo il nostro trucco con il fissatore e va a fissare tutto il nostro trucco. Ce lo fa adorare per tutta la giornata. Diego Dalla Palma ha arricchito la sua linea, oltre che i prodotti per il viso, anche una linea per i capelli. Adesso andremo ad applicare a Chiara questa gommina per i capelli, che si chiama corto maschietto, che definisce bene i capelli e li rende più lucidi, più luminosi. Ecco qua, la nostra rock star. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.